Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di Zio Pesce. Oggi parleremo di uno dei pesci più famosi dell'acquariologia, il paracheron innesi, il famoso, anzi, l'arcinoto nian. Non sarò qua a soffermarmi sulle origini, perché su Wikipedia e un sacco di siti sono reperibili ovunque le notizie delle sue origini. Diciamo che è originario del Perù e della parte andina del rio delle Amazzoni nei piccoli corsi d'acqua che attraversano la foresta, tendenzialmente più freschi ed è anche ultramodo presente in altre acque del rio delle Amazzoni perché si è diffuso un po' dappertutto. È un pesciolino che non ha bisogno di cose particolari perché si adatta un po' a tutti i tipi di acqua, però mantenere pH da neutro, livemente acido, una durezza inferiore a 10 GH sicuramente ne allunghiamo le prospettive di vita, così come tenerlo anche in inverno, in inverno soprattutto, intorno ai 18-20 gradi. Non è un pesce di acqua calda, è un pesce di acqua temperata. Poi in estate, ma la temperatura può anche andare su a 30 gradi, ma mantenendo costantemente oltre 24-25, il neon non vi campa per più di un paio d'anni. Sono animaletti che possono arrivare anche a 4-5 anni, ok? E si è tenuti nel modo corretto. Ma non voglio prolungarmi oltre, vi lascio le immagini e vediamo un po' come poter fare un po' di neon made in Italy. A dopo! Eccoci qua. In questa immagine vediamo un maschio. Di morfismo sessuale, si è tenuti bene, i pesci, è abbastanza evidente. Infatti i maschi sono notevolmente più longilini delle femmine e hanno la parte della pinna anale, la parte anteriori della pinna anale, con una piccola striscia bianca, molto più evidente che nella femmina. Ma se è tenuti bene, come vediamo adesso in questa immagine, le femmine sono tondeggianti e quindi sono facilmente riconoscibili. Ricordiamoci che sono animali che amano stare in gruppo, per quanto non in banchi fitti. Ora, questi sono paracheridon innesi, poi ci sono i simulans e, nell'immagine che vedremo successivamente, questi sono i paracheridon axelrodi, detti anche cardinali, che amano acque più calde. Questo è un albino a dimostrazione del fatto che sono riprodotti in cattività. Un altro maschio innesi, con una reticella sul fondo in vasca da riproduzione, e questa è una femmina, bella cicciotta, che è usato per la riproduzione. Un ambientamento veloce, vengono inseriti in vasca da riproduzione come questa, il riscaldatore per mantenere comunque, visto che era a gennaio e quindi la temperatura era bassa, una temperatura intorno ai 20 gradi, retina sul fondo, moss come substrato e una volta inseriti, nel giro di 24 ore, se ne inseriamo la sera e il giorno successivo, sono già pronti per deporre. Non è detto che questo succeda, perché non sempre le coppie sono affiatate, quindi ci vuole un po' di corteggiamento del maschio per spingere la femmina a deporre. Vedremo poi le immagini di questo. Allora, innanzitutto per riprodurre ne ho ancora una vaschetta a riproduzione, perché una vasca di comunità è estremamente raro che ci accada, anzi quasi impossibile, diciamoci, se vogliamo fare soprattutto una riproduzione che ci possa dare un numero cospicuo di individui. Quindi, vaschetta a riproduzione intorno ai 10 litri, retina sul fondo per separare i riproduttori, substrato, moss, muschio di java, altre piante, filamenti lacinate, si inserisce la coppia di sera, magari non si, anzi senza nutrirla, ok, perché così ci sono meno scarti organici, una volta deposte le uova, ok, vediamo la femmina più magra e comunque sul fondo se posiamo una piletta nella parte posteriore della vasca, li vediamo in contro luce, vengono rimosse i riproduttori, si cambia metà acqua uguale a quelle in cui loro hanno deposto, quindi stessi valori, stessa temperatura, stesso tutto, e mi raccomando la vasca deve essere senza filtro, perché senza filtro? Perché può aspirare i piccoli che sono microscopici e le forme di vita di cui essi si nutrono, quindi senza filtro si cambia l'acqua e tutti i giorni è almeno il 20-30% uguale chiaramente a quella di destinazione, si può tagliare leggermente con quella di luminetto ma rimanere sempre intorno ai 100-150 microsiemi un pH intorno a 7, questo è per farli crescere e portarli a una taglia chiaramente che poi dopo possiamo inserirlo in vasca insieme agli altri. Ok? Buona visione! Il giorno successivo, se tutto va bene, ma non è detto che vada bene, vediamo i pesci intenti a deporre le uova. Ecco qua le uova che vengono espulse, l'accoppiamento abbastanza rapido con il maschio che si avvicina dalla parte sottostante alla femmina. Ora, intanto vi lascio la visione delle immagini dei neon che depongono, ma per fare queste riprese io ci ho messo 5 giorni, ho dovuto cambiare due coppie perché non sempre gli animali sono pronti nel momento in cui noi abbiamo bisogno, quindi è capitato che ho preso un maschio la mattina per cambiarlo, ho cambiato una femmina, insomma non è una cosa così scontata ottenere queste immagini. Questa è la prima deposizione che viene fatta con un doppio cambiamento di coppia, infatti forse qua si vede una femmina diversa, quindi le uova che stanno cadendo e dopo circa 24-36 ore a 20 gradi, è importante la temperatura perché sembrerebbe che a temperatura più alta ci siano schiuse inferiori o addirittura nessuna schiusa, sebbene io abbia ottenuto schiuse anche a 24 gradi, ecco qua tutte le uvette che vedete sul fondo sono queste palline praticamente trasparenti color ambra, quelle bianche sono quelle non fecondate ma questa prima deposizione non è andata molto a buon fine poiché sono nate delle larvette ma molte di loro non sono riuscite a svilupparsi bene, probabilmente i valori, probabilmente la femmina, probabilmente calcificazione delle uova che quindi ha impedito sviluppo normale e volevo qui ricordare che i valori ottimali per la loro riproduzione sono pH intorno a 6,5 e circa 30-40 microsiemens, questi valori sono quelli ottimali per la loro schiusa, sebbene abbia ottenuto schiuse anche a valori di pH intorno a 7,4-7,5. qua vediamo in slow motion ciò che succede in modo più rapido durante le fasi della deposizione delle uova, vi lascio a queste immagini abbastanza particolari proprio per cercare di cogliere i momenti più particolari della deposizione dei paracherodon innesi. una vaschetta, questa vaschetta era di circa 5 litri, anzi no, 7 considerando che è sviluppata verso l'alto e chiaramente non sono necessarie, ecco qua la nuvoletta di uova, vasche troppo grandi per i paracherodon innesi, mentre invece per gli axerodi che ho avuto la fortuna di riprodurre, occorrono vasche molto più grandi. Eccoli qua, maschio e fiancheggia la femmina e con un guizzo vengono espulsi i prodotti sessuali, è importante avere la retina sul fondo perché poi a deposizione ultimata i paracherodon tendenzialmente mangiano le proprie uova. Quindi vediamo ancora in questa immagine a rallentatore come il maschio affianchi la femmina e con un guizzo la porti poi a deporre. Anche in questo caso ho dovuto cambiare due o tre femmine e la deposizione non è avvenuta il giorno seguente in cui sono stati introdotti, ma due giorni dopo. Quindi se il primo giorno non trovate uova sul fondo è possibile che dopo 48 ore d'assierimento la femmina si decida, perché è sempre lei che decide, quindi è sempre la femmina che decide come se fare le uova. Per il maschio chiaramente ci deve mettere del suo. Eccoli anche qua. E durante ogni accompiamento vengono espulse circa dalle 5 alle 10 uova per un totale per femmina che possa arrivare anche alle 150. Mediamente comunque una femmina giovane, che tra l'altro sono le migliori per riprodurre, emette intorno al centinaio di uova. Ecco qua, vediamo, se osservate bene in centro le immagini c'è un piccolo di paracchero di l'innesi che si muove e che è, eccolo qua, appena nato praticamente. Ancora qui osserviamo un piccolo neon appena venuto al mondo dopo circa una trentina di ore e qua invece tutti i neon che sono nati, diciamo che è una buona schiusa, per quanto in questo specifico caso abbia usato una femmina che aveva deposto la settimana prima. Per cui non ci sono un numero di avanotti, diciamo, estremamente cospicuo. Dovrebbero essere circa una cinquantina, 60 pesci. Eccoli qua, a circa 24 ore dalla schiusa, o per meglio dire no, anzi, questi sono appena schiusi, diciamo che ho fatto queste riprese a luce spenta perché il fascio luminoso in contrasto riesce a evidenziare meglio i piccoli paracchero che ricordiamo, come si vede in queste immagini, che sono lunghi appena 2 mm o forse poco più. Nell'arco di circa un 72 ore i piccoli paraccherodon sviluppano gli occhi e le pinne e come in questo caso iniziano a muoversi per cercare di andare in superficie e gonfiare la vescica natatoria. Qualora non dovesse riuscire questa cosa, ecco qua un altro piccolo paraccherodon che cerca di gonfiare la vescica natatoria respirando aria, ok? Qualora non riuscisse purtroppo rimangono meno amati e facilmente non ce la fanno, quindi muoiono. Ecco un altro che sta cercando di trovare l'assetto giusto per il nuoto, sono buffissime perché sono creaturine veramente lunghe, pochi millimetri. Ed eccone qua uno della covata precedente che abbiamo visto prima che ha preso a nuotare, diciamo che l'assetto è stabile, questi della prima covata li ho salvati circa una dozzina, li ho messi dentro una vaschetta di circa un 50 cc di acqua, un primo piano di un paraccherodon pronto per il nuoto, sono circa 73 giorni dalla schiusa più o meno, ha aumentato anche le dimensioni, munito di pinnette, si accinge a prendere il nuoto. Eccoli qua i valori in cui sono nati, il pH si è levemente alzato perché ha generalmente 6,5 schiusa e invece la conduttività è molto bassa, abbiamo detto intorno ai 30-40 microsiemens. Ecco ovviamente poi durante la crescita io alzo un attimo i parametri tagliando leggermente con acqua di luminetto, infatti il pH come abbiamo visto è intorno ai 7 e la conduttività intorno ai 60 eccetera, quando invece in fase di riproduzione conviene un pH almeno di 6,5 se non qualcosa in meno e lavorare dai 30 ai 50 microsiemens, quindi vuol dire circa un mezzo grado di GH, grosso modo, però è sempre meglio avere gli strumenti che misurano la conduttività in modo elettronico e anche il pH amatro. Avete visto prima che ho utilizzato un riscaldatore dentro a una bottiglia per mantenere calda l'acqua abbassando il livello in modo che mi concentri piccoli, perché piccoli concentrati vuol dire anche avere il mangime concentrato e siccome devo non nuotare il mangime ecco perché ho abbassato il livello dell'acqua. Qua hanno già passato il periodo critico della prima settimana in cui li nutrivo con i parameci, hanno circa 12-15 giorni di vita grosso modo e predono in maniera costante i naupi d'artemia. Il problema dei neon è che loro sono immobili e mangiano solo quello che gli passa davanti la faccia, quindi bisogna avere una densità di cibo estremamente elevata. Ecco perché ho radunato il tutto in poca acqua. Ora qua vediamo il paragone fra i parameci che vedete muovere sulla sinistra e i naupi di artemia. Siccome i piccoli neon appena assorben un sacco vitellino, una testa grande come un naupio, ecco perché è importante avere i parameci. Ecco qua, abbiamo visto un flusso di parameci che viene inserito e dopo circa una settimana, 10 giorni diciamo metto entrambi sia i naupi di artemia che i parameci. Come fare i parameci? Trovate un video completo sempre sul canale che vi illustra come poter ottenere i parameci che sono fondamentali per la riproduzione dei paracheridoninesi. Qua hanno circa due settimane abbondante e si nutrono avvidamente di naupi di artemia, sempre che però passano davanti a loro perché altrimenti i piccoli neon sono più preoccupati di farsi mangiare e rimanere nascosti che invece cercare il cibo. Ora in queste immagini successive, eccole qua, vediamo i piccoli che hanno circa una ventina di giorni, tre settimane grossomodo, crescono a vista d'occhio perché ogni giorno che uno riguarda crescono e dopo circa un mesetto hanno circa queste dimensioni. Diciamo che purtroppo alla fine del primo mese a queste dimensioni sono presi una batteriosi che purtroppo mi ha fatti morire la metà. Ecco invece qua che hanno poco meno di due mesi, diciamo che hanno anzi poco più di un mese, 35-40 giorni e iniziano a prendere la forma di piccoli neon, ancora non possono essere svezzati. Qualora lo facessimo ci troveremmo di fronte agli animali che non sono in grado di nutrirsi e quindi destinate a morte quasi sicura. Ecco qua invece vediamo che stanno prendendo colore, ci sono alcuni esemplari che sono rimasti un po' indietro nella colorazione ma poco male perché nell'arco di qualche giorno anche loro diventeranno dei piccoli neon. Qua abbiamo uno che è ancora abbastanza grigio, sta mettendo fuori i colori e invece qua abbiamo degli altri esemplari che ormai sono giovani neon. E' a questo punto che possiamo provare a dare qualche piccola scaglia, vedere se loro sono in grado di nutrirsi. Conviene sempre dare prima le scaglie e prenderli per fame per poi comunque mantenere l'artemia ancora per alcuni giorni. E' importante che non si indeboliscono perché se si indeboliscono è davvero problematico perché sono più facile preda di parassiti e altre cose che comunque ci sono sempre in acqua. Quindi importante l'alimentazione. I cambi dell'acqua io quotidianamente da quando sono nati ho sempre effettuato dei cambi di circa il 20% quotidiano. Eccoli qua, mangiano in secco, sono quasi pronti per essere inseriti in società. Sempre ormai a due mesi e passa che sono dei giovani neon di un centimetro. Quindi escono più facilmente, sono meno timidi, riescono a nutrirsi di più e in questo modo siamo sicuri di non perderli dal punto di vista alimentazione. Alcuni più indietro diciamo nelle dimensioni e colori ancora molto timidi, li ho trasferiti in un'altra vaschetta ma questi sono pronti per essere messi nell'acquarello. Come vedremo fra breve. Il 18 marzo del 2020 i nostri ragazzi nati a gennaio, metà gennaio sempre del 2020 faranno il debutto in società. Quindi verranno inseriti nell'acquarello insieme al loro papà e al loro mamma. Ma prima di fare questo, cosa facciamo? Prima di misurare i valori in cui sono cresciuti i nostri bellissimi neon. Allora, pHmetro. Vediamo un pochino cosa ci dice. Diciamo che in linea di massima abbiamo pH intorno a 7, leggermente alcalino. 7, 1 è qualcosa. Invece vediamo la conduttività e la temperatura. Vediamo microsiemens. un pochino. 128 microsiemens. Ok. Per una temperatura di... scusate ma qua con la mano sola è sempre complicato. Temperatura 19 gradi 4. 128 microsiemens. Ok. Direi che abbiamo visto dove sono cresciuti. Salutiamoli perché stasera andranno con il loro papà e la loro mamma. Ciao ragazzi. Ci rivediamo in acquarello. Ciao. Bene. 18 marzo. A circa due mesi, dato che sono nati 12-13 gennaio, in questo piccolo contenitore con una foglia di quercia per farli sentire più sicuro. Un po' di ambientamento. e dato che sono stati pescati poco tempo prima, mi raccomando, per azione deve essere fatta il più breve tempo possibile, altrimenti rischiamo di danneggiare la mucosa che a contatto dell'aria si può bruciare. E fra un po' in acquarello insieme a tutti gli altri. Bene. Ecco qua i nostri piccoli, insieme a due maschi, il parachero dell'innesi, di Tanittis. Ecco un Simulans, possiamo vedere. Un altro Simulans. Vediamo altri piccoli che si sono ambientati perfettamente e le femmine reproduttrici che ho utilizzato per far nascere i piccoli che vedete qua. Un bel branchetto di brachidaneo e ancora i nostri bellissimi neon ambientati alla perfezione. Ciao ragazzi! Allora, vi è piaciuto il video? Mi auguro di sì. Nel caso lasciate un like e comunque iscrivetevi al canale, perché ci sono sempre tante novità su Zio Pesce. La cosa che mi premeva dirvi, oltre a tutto quello che avete visto fino adesso, è che non è un pesce assolutamente che ha bisogno di spazi giganteschi, perché con una vaschetta dai 40 litri in su possiamo tranquillamente dare tutto lo spazio che ha bisogno. Non è un grande notatore, se non quando si raduna in branchi per paura, quindi per sentirsi sicuro, o per magari riprodursi, perché generalmente è un pesce che anche in natura rimane abbastanza di rimpetto gli ostacoli proprio per proteggersi. Creandosi dei piccoli territori adiacenti ai propri conspecifici, in modo tale che se succede qualcosa, si radunano di nuovo in gruppo e chiaramente in gruppo un predatore non è detto che becchi proprio me, se sono insieme ad altri 100 consigli. Per cui sfatiamo l'agenda metropolitana che Neon ha bisogno di un metro di acquario, 100 litri o cose di questo genere, non è assolutamente vero, perché non è un grande notatore. Se pensiamo ai Brachidania e Petitella, per esempio, Brachidania è un grandissimo notatore, Petitella, anche loro inoltre sono fra i pochi pesci che in acquario mantengono un comportamento, un'etologia di banco, cioè quindi nuotare all'unisono tipo sardine, ecco le Petitella sono adatte a questo. Per le Petitella sì che direi che, insomma, meno di 80-100 litri non andrebbe tanto bene. I Neon dai 40 litri in su possono stare anche in vasche più piccole, però con 40 litri possiamo dare sufficientemente spazio affinché possano stare bene. Sono elementi statici e solo se hanno paura tendono a raggrupparsi, ecco perché nei negozi stanno sempre in gruppo, ma perché hanno paura. Con questo vi saluto, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e vi aspetto al prossimo video. Ciao!